allora Kate vorrebbe prendere l'ascensore andiamo Kate che cosa succede quando arriviamo verso l'ascensore andiamo Kate entra nell'ascensore la sua sedia a rotelle e qui ci sono i pulsanti ma Kate abita al secondo piano e i pulsanti non ci sono c'è quello dello zero del piano meno uno ma non ci sono altri pulsanti ecco che cosa devi fare adesso per salire a casa devo aspettare che qualcuno passi per farmi chiamare dall'esterno al piano mio altrimenti rimarrò giù in attesa che qualcuno mi faccia salire ti è capitato altre volte? certo mi è capitato di aspettare oltre mezz'ora qua giù che qualcuno passasse per farmi salire oppure devo chiamare un qualche inquilino e farmi chiamare da fuori quindi Kate per poter raggiungere la sua abitazione deve sperare di trovare qualcuno disponibile al secondo piano che chiami l'ascensore da lì altrimenti è costretta a stare giù o al limite non uscirà da casa rispostanti antonio è costretto a stare giù Grazie.